Condivido pienamente il modello 70-20-10, credo che in azienda sia applicabile nella misura in cui ci siano alcune condizioni. Prima di tutto creare la creazione della cultura aziendale perché il modello venga applicato, quindi sicuramente il coinvolgimento dei manager, ma la seconda condizione, forse anche più importante, è quella di creare le possibilità di in un qualche modo formalizzare tutta quella parte del modello 70 che in questo momento esiste nell'organizzazione ma che non è ufficiale o che non è visibile. Quindi credo sia importante, anche da parte delle aziende di consulenza, aiutare le aziende a formalizzare questo 70, renderlo più visibile all'interno dell'organizzazione e in un qualche modo ufficializzarlo.